alle due alle due grande dai che è finita due metri è finita simo noi alla fine abbiamo fatto la variante dd 3 difficolt ragazzi a sinistra e a destra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, sono riuscito dentro. No, sono riuscito dentro. No, sono riuscito. No, sono riuscito. No, sono riuscito dentro. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti